Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'amministrazione comunale di Ancona mette a disposizione 100.000 euro per il bilancio partecipato 2022. Significa che secondo le idee dei cittadini e delle scuole verranno premiati dei progetti, verranno realizzati dei lavori proprio appunto sulla base delle proposte che saranno avanzate. Siamo arrivati alla fase finale con 5 finalisti, 2 delle scuole e 3 da parte dei cittadini e il prossimo 20 dicembre ci sarà la premiazione definitiva. L'assessore Simonella ci spiega l'inter del percorso. Sono 5 progetti e bisogna votarli, in questo caso votano tutti i cittadini sopra i 16 anni. Abbiamo un sito dedicato, una pagina anche del Facebook e anche Instagram. Si può andare lì, si può votare come ogni cittadino ha a disposizione 10 fiche, diciamo così, 10 voti. Li può allocare e distribuire equamente su tutti i progetti, oppure può decidere di assegnarli tutti a un progetto, a due progetti, eccetera. Quelli che apprezza di più. Il 20 dicembre avremo i vincitori, uno del percorso scuole e un altro tra i tre progetti decisi dai cittadini. Subito dopo si procederà con i lavori? Subito dopo si procederà con l'iter che è quello amministrativo. Noi abbiamo le risorse a bilancio, inizieranno le progettazioni, dipende poi dal tipo di progetto che vince, le progettazioni o gli acquisti e quindi le realizzazioni. In attesa che venga decretato il vincitore, siamo andati in giro per il capoluogo per sentire anche altre idee dei cittadini. Quale sarebbe il suo progetto, la sua idea per il futuro di Ancona? La piaga di Ancona, specialmente del centro storico, è i parcheggi. I parcheggi è un grosso problema, insomma. Però penso anche che se si potessero fare delle attività a favore dei cittadini, di attività ricreative o comunque, diciamo, spettacoli. Per il futuro di Ancona, lei cosa proporrebbe? Nulla, ma io che sta tutto così com'è. Per quale motivo? Per motivo che a me non mi dispiace. Quindi le va bene come è gestita adesso? Non c'è un quartiere da sistemare rispetto a un altro? Beh, può darsi che ci sia un quartiere, ci siano le strade, anzi sicuramente ci sarà. Però credo che se sia fatto il possibile. E' un quartiere che abbellirebbe? Beh, la zona degli archi non è male. Si stanno lavorando, però credo che vaga ancora la pena di investirci qualcosa. E' una zona anche molto bella, insomma, è anconitana.